Corso, vediamo quale sarà il verdetto. Finito! Qual è il verdetto? Chi ha vinto? Vincono la nuova gang! Altri due punti! Oh, il fantasy, cosa succede? Cosa succede? Attenzione, il distancio sta diventando troppo elevato. Ma cosa succede? Cosa c'è? E' che siamo più forti! Siamo più forti, vedremo come andrà a finire, perché nulla è perduto. I due numeri, prego! 16 e 4! Comunque ragazzi, voi, secondo il mio punto di vista, il 16 e il 4 hanno scelto gli altri. Secondo il mio punto di vista, adesso non voglio interferire. Adesso il tuo punto di vista ci interessa molto poco. Dovrete scegliere il computer per rimanere bilanciati, perché adesso c'è un'altra possibilità per vincere ancora due punti.